Buonasera a tutti gli amici che ci stanno seguendo attraverso la rete con questo primo webinar dedicato al progetto BeSafe, un progetto sulle api e altri impollinatori che il WWF Italia ha presentato al ex Ministero dell'Ambiente, oggi Ministero della Transizione Ecologica, in un bando che si è tenuto, che è uscito nel 2019, poi abbiamo avuto il progetto sosteso per un anno a causa dell'emergenza sanitaria e siamo ritornati a essere operativi praticamente da poche settimane per ricadere di nuovo in un'emergenza perché la provincia di Ancona dove si svolge operativamente il progetto da una settimana è di nuovo in zona rossa. Il progetto è un progetto di educazione ambientale quindi è rivolto al mondo delle scuole ma anche agli educatori e ai docenti, per educatori intendiamo tutti coloro che svolgono comunque attività di educazione ambientale all'interno delle aree naturali protette, la rete delle guide ambientali e escursionistiche di Aigae e è riconosciuto formalmente dal MIUR e a tutti coloro che seguiranno tutti i webinar che sono previsti nel programma di formazione online sarà rilasciato un attestato. Dopodiché abbiamo in programma anche dieci ore di intervento di attività in presenza presso la riserva naturale Ripa Bianca di Iesi che saremo in grado di calendarizzare appena avremo un'emergenza sanitaria meno curenta che ci consenta quantomeno di tornare a fare attività in presenza seppure con tutte le prescrizioni del caso. Dicevo, questo primo webinar fa parte del corso di formazione che originariamente era tutto previsto in presenza, abbiamo portato diverse lezioni online e per l'occasione l'abbiamo però aperto anche al pubblico generico cioè tutte le persone potenzialmente interessate ad approfondire temi legati alla tutela delle api e altri impollinatori. Oggi approfondiamo proprio un gruppo di impollinatori che per i non addetti ai lavori non è conosciuto quanto lo sono le api. Anche l'universo delle api è molto variegato, considerate che a livello mondiale sono 20.000 specie, a livello europeo sono più o meno 2.000 specie di apoidei ma i sirfidi, il gruppo di impollinatori di cui parleremo oggi, in realtà sono degli impollinatori molto più importanti e soprattutto efficienti rispetto alle api. Abbiamo la fortuna di avere senza nessuna presunzione uno dei maggiori esperti del gruppo dei sirfidi, se non il maggiore esperto, almeno a livello nazionale, che è il professor Burgio dell'Università di Bologna. Poi lascerò a lui una breve presentazione delle sue attività, del suo ruolo. Lui ci condurrà attraverso la scoperta di questo gruppo di impollinatori, importantissimo, perché non solo risulta essere un gruppo di insetti molto più efficienti rispetto all'impollinazione, più del 75% delle piante da fiore vengono visitate da sirfidi, ma l'importanza di questo gruppo è legato al fatto che non garantisce solo il noto servizio ecosistemico dell'impollinazione, ma rappresentano dei veri e propri pesticidi naturali, nel senso che sono dei predatori di insetti nocivi all'agricoltura, un'attività che gli apoidei non svolgono, e hanno anche la capacità di trasportare polline a distanze molto più elevate, più alte rispetto agli apoidei. Quindi hanno delle caratteristiche che sono proprio parte della loro biologia, della loro ecologia, che li rendono veramente degli impollinatori unici e straordinari. Io prima di salutarvi vi ricordo anche che questo progetto realizzato da WWF e Ministero per la Transizione Ecologica è collegato anche all'iniziativa dei cittadini europei, se abbiamo le api e gli agricoltori. Con questo vi proponiamo di poter fare qualcosa di concreto e operativo anche direttamente voi come singoli, sia andando a firmare alla pagina del sito web che trovate indicata, la pagina del sito ufficiale istituzionale del WWF, l'iniziativa dei cittadini europei è una petizione ufficiale riconosciuta dalla Commissione europea che ha come finalità quello di chiedere alla Commissione europea una normativa più rigorosa e più stringente rispetto all'uso dei pesticidi proprio per garantire la tutela degli impollinatori. Ma oggi questa petizione assume un valore duplice perché, come sapete, il 20 maggio dell'anno scorso, del 2020, la Commissione europea ha presentato due importanti strategie, la strategia Biodiversità 2030 e la strategia Fun to Fork. Sono due strategie che pongono degli obiettivi importantissimi per la conservazione degli impollinatori, pensiamo alla riduzione del 50% dell'uso dei pesticidi o la conversione di almeno il 25% della SAO a livello europeo in agricoltura biologica, ma il WWF insieme alla coalizione Cambiamo Agricoltura per l'Italia propone un obiettivo molto più ambizioso che è il 40% di superficie agricola utilizzata da destinare all'agricoltura biologica e un altro obiettivo importante per gli impollinatori è destinare almeno il 10% dei terreni agricoli a aree funzionali alla tutela della biodiversità. L'importanza di questa convenzione è che se raggiungeremo almeno un milione di adesioni formali che devono essere certificate attraverso i dati di un documento di riconoscimento in almeno sette paesi europei e molti paesi hanno già superato il quorum richiesto di firme da raccogliere. L'Italia è ancora indietro. Se riusciremo a raccogliere questo milione di firme, la Commissione europea è obbligata a dover dare delle risposte alle richieste di questa ICE, che è stata presentata prima della presentazione delle due strategie di cui vi accennavo e possiamo dire che in un certo senso queste due strategie danno già una risposta operativa alle richieste dell'ICE che oggi assume un valore importante perché oltre a presentare delle richieste puntuali per una gestione più sostenibile dei pesticidi e per una tutela efficace degli impollinatori, oggi questa petizione assume anche l'importanza di voler tutelare queste due strategie, voler chiedere in qualche modo la conferma se non addirittura il rafforzamento degli obiettivi che sono sotto attacco chiaramente da parte delle grandi lobby dell'agrochimica che chiaramente stanno osteggiando questi obiettivi fissati dalla Commissione europea. Quindi l'invito a tutti è di andare a firmare, ma non solo di diventare promotori e parte attiva nella raccolta delle firme, invitando amici, parenti, divulgando il più possibile questo link e l'invito a firmare la petizione a tutti i vostri contatti e amici. Chiudo questa presentazione, ci risentiremo. Alla fine vi ricordo che se avete delle domande specifiche da fare nel corso della presentazione potete scriverle sui commenti della pagina Facebook, mi saranno poi passate per sottoporle anche durante lo svolgimento del webinar al professor Burgio e noi ci rivedremo alla fine del webinar per annunciare il secondo incontro che è previsto per la prossima settimana nel quale parleremo proprio di pesticidi. Lascio la parola al professor Burgio, io mi oscuro e gli lascio il palco. Intanto ringrazio. Si vede? È visibile? Sì, lo vediamo. Benissimo, benissimo. Allora, intanto ringrazio per le belle parole, per la presentazione e per l'invito. Mi fa particolarmente piacere essere presente in questo contesto e poi vi dirò perché, fare altre cose. Intanto, sì, il titolo, i sirfidi biodiversità e conservazione secondo me è giusto, ecco, non sono stati connotati i sirfidi esattamente e poi si capirà bene perché perché sono un gruppo effettivamente polifunzionale, sono di tutto fare per l'ambiente effettivamente, non solo agenti di lotta biologica, non solo impollinatori, sono un po' anche, soprattutto recentemente, un caso studio nell'agroecologia, diciamo. Ecco, io sono un entomologo agrario, lavoro all'Università di Bologna, nell'attuale Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari. Sono un entomologo agrario, mi occupo prevalentemente di conservazione della biodiversità, soprattutto gli ambienti che studio il più sono gli ambienti coltivati, studio metodi di difesa contro insetti dannosi, privilegiando metodi sostenibili sia all'interno dell'integrato e anche dell'agricoltura biologica, applicazione di tecniche agroecologiche per il potenziamento dei servizi ecosistemici. E una mia specializzazione è riferita all'utilizzo e all'implementazione delle infrastrutture ecologiche, sempre per potenziare diversi servizi ecosistemici. Ecco, sono un entomologo agrario, ho conosciuto i sirfi di commento omologo agrario e ho messo questa immagine molto bella perché è un disegno che fece un disegnatore, insomma, che contattò il mio collega, il carissimo amico e il grande sirfidologo, fra l'altro Daniele Sommaggio, con cui abbiamo condiviso un testo in italiano sui sirfi che vi farò vedere, e fece questo disegno molto bello che poi è rimasto incompiuto. Questa persona poi non si è fatta più trovare, non ho capito bene perché. Allora mi sono affezionato moltissimo a queste immagini di sirfide perché è un po' incompiuto come una sinfonia di Schubert e di altri musicisti, è vero, e mi ero affezionato. Io sono cresciuto nell'allora Istituto di Entomologia di Bologna, ho avuto come maestro il professor Celli, sono veramente vicino a queste tematiche e ribadisco quanto mi fa piacere essere presente in questo contesto e sono proprio contento che il mio nome faccia parte di un tema così importante, lo dico perché ci credo tantissimo. Ecco, i sirfidi, e parliamo di sirfidi quindi, sono diptera sirfide o diteri sirfidi chiamati dagli anglosassoni overfly, mosca e elicottero, poi vedremo perché. Sono una grande famiglia di diteri brachiceri, cioè diteri con la sembianza di mosca, diciamo. Per avere un'idea così della dimensione della famiglia parliamo di circa 6.000 specie nel mondo, circa 520 in Italia. Dico circa perché continuamente si segnalano nuove specie per la fama italiana, ad esempio. Però ecco, questo era un numero che è comparso in una recente checklist proprio sui sirfidi. Ecco, i sirfidi sono conosciuti e farei meglio dire sono misconosciuti per un malinteso e lo vedete il malinteso, queste sono tutte locandine, immagini, anche notizie di giornali riferiti alle api, all'apicultura, in cui compaiono sirfidi. Questi sono tutti sirfidi e compaiono, adesso non lo metto per screditare queste locandine, ma lo metto proprio per ribadire come e la loro strategia ecologica sia ben riuscita, cioè il mimetismo. Infatti sono conosciuti, ho detto misconosciuti, perché vengono confusi, proprio per il loro mimetismo battesiano, che è incredibile. Poi questi sono casi anche, non dico fraimeno lampanti, ma ci sono altri casi di somiglianze che definisco incredibili. Come vedete, queste sono tutte immagini di sirfidi tratti da locandine, di convegne di apicultura, eccetera. Quello sulla destra e a sinistra sono due sirfidi eristalini, quelli centrali sirfini. Come vedete, la somiglianza è riferita sia alle api che anche a vespe. Fra l'altro, nei sirfidi, il mimetismo battesiano è molto comune, ma non riguarda solo il colore. Cioè, questa immagine così istintiva che li porta a essere confusi, ma pensate anche a queste immagini in cui sono mostrate le antenne. Sono sviluppate in un modo particolarmente strano per i diteri e il vitino da vespa. Queste sono immagini sorprendenti di specie, fra l'altro specie molto belle che sono ricercatissime fra i sirfidologi. Quella in bassa destra la catturai in un trappolo amalaise nella campigna. Il vitino da vespa è un'altra cosa incredibile. Quindi, ecco, la prima cosa che dici sui sirfidi è che sono caratterizzati da questo sorprendente mimetismo battesiano, cioè sono mimi di insetti, soprattutto api d'espe, dotati di pungiglioni, quindi essendo confusi per essi, diciamo, dovrebbero mettere in guardia a predatori. La famiglia dei sirfidi è divisa in queste tre sottofamiglie. Non voglio entrare troppo in particolari sistematici. Io poi sono un etomologo agrario, me ne sono occupato, me ne occupo un po' di identificazione, non sono un sistematico puro, ecco. Però sono divisi in questi tre gruppi. Vi parlerò soprattutto degli ultimi due, sirfini e ristalini. Vedete che le sembianze, ho messo due specie tipo, per ogni sottofamiglia, sono anche abbastanza diverse. intanto un po' così, un po' di storia, chi sono stati importantissimi i sirfidologi del passato? Ben Rondani, Camillo Rondani, entomologo parmense, uno dei più grandi diterologi, lo è vissuto nel 1800, grandissimo sistematico. Il mio collega, Daniele Sommaggio, sta pubblicando adesso un articolo su tutti i tipi che ha descritto questo entomologo e ha segnalato moltissime specie e lì vedete un libro che pubblicò nella nostra biblioteca, abbiamo l'originale, in latino, una monografia sui sirfidi, chiaramente oltre a essere in latino è poco utilizzabile, diciamo, però ha segnalato tante specie, come vedete. Pensate che ha dedicato, ve l'ho mostrato, quella bellissima specie, Sfiximorpha petronilla, una specie che è così, è mitica per i sirfidologi, l'ha dedicata alla sua donna che amava tantissimo, che poi fra l'altro morì giovane e vi posso assicurare che dedicare una specie per un entomologo è veramente un atto eccezionale e quindi Rondani, anche il Bezzi, è stato un grandissimo entomologo, titterologo e ha segnalato molte specie, lo vedete sotto, effettivamente i sirfidi sono caratterizzati da una elevata diversità di caratteri. Questo mimetismo riguarda sia le api che altre poidei che le vespe. Qua vedete un'immagine mista di caratteristiche di tante specie di questa famiglia. Abbiamo un mini delle api, come vedete, qua vedete anche il nome delle specie, queste sono due specie molto comuni, quella a destra, l'Erestalistenax, poi vedremo che è una delle specie con il più elevato potenziale di impollinazione e fra l'altro è chiamato dronefly proprio come metafora della somiglianza con le api. Abbiamo mimi di bombi, guardate questi mimi di bombi, sono incredibili, è chiaro che si capisce che sono diteri, hanno due ali, hanno gli occhi da mosca, diciamo, le antenne tipiche, però insomma vedete anche voi come il mimetismo sia veramente sorprendente. Abbiamo anche un gruppo di vespe calabroni, la specie in alto a sinistra chiamata milese calabroniformis, guardate la somiglianza, fra l'altro alcune di queste specie ronzano, hanno un ronzio molto simile. Gli adulti che caratteristiche hanno? Intanto hanno un apparato lambente succhiante, diciamo a proboscide tipo mosca, quindi questo fa sì che la loro alimentazione comprenda l'assunzione di liquidi zuccherini e anche polline. Infatti gli adulti sono glicifagi, polinifagi. Liquidi zuccherini forniscono l'alimento energetico, quindi l'energia per sostenere il volo. il polline serve alle femmine per la maturazione degli ovari, quindi c'è un legame molto stretto con la biodiversità vegetale e questo è il motivo, diciamo. Sono ovviamente impollinatori gli adulti, impollinano tantissime piante sia coltivate che spontanee e sono buonissimi volutori, sono molto mobili, come vedremo ci sono specie che compiono migrazioni, di vere e proprie migrazioni e sono presenti in tutti gli ambienti. Dire sono presenti in tutti gli ambienti sembra così un modo per semplificare, ma è realmente così. Mi ricordo un episodio che cito di un giro in montagna, andavo più spesso in montagna nel passato, 15-20 anni fa, eravamo fra l'altro Ades e l'Austria, andavamo sulla cima libera a 2100 metri, fra l'altro fu un giro un po' complesso, forse magari superiore alle mie doti alpinistiche, io poi non sono un alpinista ma faccio così un po' di trekking come hobby e a 2100 metri dopo un giro pazzesco, stanchissimi, entrammo in questo rifugio e mi venne incontro un adulto di Sirfide, un Episirfus Balteatus e fui veramente emozionato e lì eravamo veramente in alto e ve lo ricordo così con una certa emozione. Allora, cos'è la caratteristica che li rende tali quando si può dire che un Sirfide è veramente Sirfide? Hanno un carattere che è chiamato un carattere diciamo tassonomico forte che li caratterizza nelle ali che come vi dicevo sono due quindi don del nome Diptera due ali ovvero un paio di ali è presente quella vena chiamata Spuria che in realtà è una falsa vena come vedete si interrompe senza congiungersi nel bordo dell'ala ed è praticamente una falsa vena perché è un spessimento chitinoso che la fa somigliare a una vena ma in realtà non lo è ebbene quel carattere diciamo è distintivo per la famiglia dei Sirfidi naturalmente in entomologia ci sono eccezioni in quanto una specie di Sirfide non possiede questa vena infatti nella chiave di riconoscimento c'è scritto assenza della vena Spuria che è una specie di paradosso una specie di ossimoro ecco è incredibile poi ho scoperto che la vena Spuria in un certo modo è presente in pochissime specie di conopidi che sono un'altra famiglia di diteri comunque questo è il carattere che li contraddistingue un'altra caratteristica per la verità presente in molte specie ma non in tutte bisogna dirlo è il volo librato dove il nome overfly mosca elicottero li potete scorgere durante il volo fermarsi quindi rimanendo sospesi nell'aria immobili e devo dire che incontrarli è emozionante rimangono sospesi realmente anche a un metro e mezzo anche due metri due metri e mezzo ad altezza in certe situazioni rimangono per diversi secondi in questa posizione per poi spiccare il volo e cambiare posizione questa caratteristica permette diciamo una sorta anche di identificazione al volo di molte specie però non tutte le specie mostrano questo volo librato questo bisogna dirlo quindi è presente in alcuni gruppi come si studiano gli adulti come si raccolgono ovvero come si campionano qua vedete tutti i metodi di campionamento che vanno dal rettino classico ecco lì ho messo mia figlia quando aveva circa 8-9 anni per avere un'idea delle carolina che è di là se la vede magari anzi gliela mostrai all'inizio sono un po' arrabbiata poi a riso non è diventato un entomologa fortunatamente per avere idea comunque delle dimensioni e quello è il metodo classico che permette raccolte diciamo che è il metodo che integra tutti gli altri è un metodo fondamentale di base permette raccolte diciamo più qualitative che quantitativi ovvero dai dati che si ottengono correttino difficilmente si fanno elaborazioni statistiche sull'abbondanza delle specie ma permettono di segnalare le specie diciamo sotto vedete le trappoli chiamate malaise famosissime nelle scienze naturali nella biologia nell'entomologia assomigliano a tendine canadesi e in alto hanno una bottiglia che raccoglie gli insetti che vengono intercettati vedete da quella parete verticale volano in alto e finiscono attraverso un'apertura in quella in quella in quella bottiglia che comprende alcol in alto vedete trappole emergenza tutto tutto il materiale che nasce sotto quelle trappoline viene raccolto e convogliato sempre nelle bottiglie poi vedete piatti cromo attrattivi quelli sopra sono realmente piatti da picnic gialli il giallo attira molti sirfi diciamo che i colori che attirano più gli adulti sono il giallo e il bianco che vengono impregnati di una colla spray e sotto trappole che si usano anche per monitorare per monitorare gli apoidei diciamo le cosette pantrap che sono contenitori riempiti d'acqua con un liquido tensiativo per impedire l'evaporazione questi sono i vari metodi che spesso vengono integrati e che compaiono in tanti lavori poi si può dare precedenza a un metodo rispetto all'altro a seconda del tipo di studio e delle osservazioni ecco quindi però ci tenevo a mostrarvi le tecniche di campionamento che sono usate per lo studio di questo gruppo sono tecniche usate anche per altri gruppi diciamo e una piccola presentazione degli adulti diciamo può ritenersi conclusa larve le larve mostrano una eterogeneità di resimi alimentari notevole e io conosco poche famiglie di insetti parlo di famiglia che hanno una versatilità ecologica così ampia infatti abbiamo specie con larve predatrici specie con larve fitofoge infatti fra i sirfit sono presenti specie fitofoge orbivore come direbbero gli angorsas servivore si nutrono prevalentemente di piante spontanee comprese qualche bulbosa raramente hanno causato qualche danno a specie coltivate soprattutto bulbi diciamo poi abbiamo spese con larve saprofaghe e divise in saprofaghe terrestri vivono in un ambiente più solido e quelle che vivono in un ambiente liquido semiliquido e quindi vedete che hanno una versatilità ecologica veramente ampia poi ho parlato dei gruppi più più così differenziabili ci sono varie eccezioni ci sono alcune specie per esempio coprofaghe con particolarità veramente spinte e l'analisi funzionale offre quindi delle bioindicazioni molto utili per questo che quando si studiano i cirfi si usano il bioindicatore è suggerito dividere le specie nei vari gruppi funzionali cioè indicare il numero di specie appartenenti a diversi gruppi e questo dà una interpretazione ecologica dell'ambiente come vedete molto forte ecco io sono magari nato come cirfitologo qui nell'entomologia agraria molte specie della sottofamiglia cirfine sono predatrici principalmente di afidi poi ci sono eccezioni particolari c'è una specie che preda la 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 della della vita ad esempio e anche le pidotteri però la maggior parte delle specie preda afidi all'interno degli afidi i cirfidi si nutrono di diverse specie hanno una elevata polifasia che li spinge a a predare e nutrirsi di tantissime specie di afidi però ecco polifasia all'interno degli afidi ma specializzate specializzate in questo in questo gruppo di fitofagi curioso che le larvi in molti casi alzano le loro prede durante la predazione e poi perché perché non si sa bene si può intuire probabilmente cercano di alzando l'afide cercano di tramortirlo per impedirli di emettere fermoni di allarme questa potrebbe essere l'interpretazione vedete anche sotto le uova di almeno di questa di questa specie dovrebbe essere una sferoforia scritta e la relativa larva la foto centrale l'ha fatta la carissima collega Serena Magagnoli grandissima naturalista e fotografa e a destra vedete un altro dettaglio di una larva che ha afferrato un afide attraverso gli uncini boccali quindi ne svuotano i contenuti aspirano i liquidi e quindi sono delle macchine molto molto efficaci questo è il pattern dei sirfi di affidifagi senza entrare troppo diciamo vedete un po' le colorazioni pattern addominali abbastanza simili queste sono tutte specie diverse le due specie in alto sono molto comuni a sinistra la sferoforia scritta e a destra un sirfus e sotto vedete altri tipi di larve le larve sono vedete sono apode in quanto ditteri ovviamente però questo si vede meglio a sinistra vedete che nella parte addominali possono avere delle formazioni che sono omologabili a degli pseudopodi per facilitare la locomazione però sono apode in quanto non hanno zampette torace che hanno semplicemente questi rilievi nell'addome a guise di pseudopodi ecco sono probabilmente noturne sono non facilissime da campionare vedete come si nascondono anche come colorazioni all'interno delle foglie spesso si trovano all'interno delle foglie cartocciate e vedete una foglia che insomma raccogliamo in un campionamento per mostrarvi una larva all'interno di una colonia di afide nero questo mi sembra fosse cardo un cardo sì mi sembra fosse cardo e a volte insomma non è facilissimo osservarle e vanno e quindi i campionamenti vanno eseguiti compiendo un elevato numero di di foglie di organi e i i sinfidi hanno una caratteristica le femmine di molte specie essendo così mobili e questa dote si apprezza in campo agrario diciamo sono fra i primi ausiliari a ricolonizzare le culture dopo gli interventi i setticidi diciamo sono molto resilienti nel breve periodo è chiaro che soffrono molto gli interventi i setticidi però sono molto non mobili e colonizzano e colonizzano continuamente questa è una caratteristica quante specie abbiamo negli ecosistemi allora su scala di sito cioè di azienda 12-30 12-30 a seconda dei contesti su una scala ampia di paesaggio ad esempio una porzione di paesaggio che raggruppa un territorio possiamo trovare 50-60 specie di sirfidi le specie affidifiche sono circa 60-70% poi c'è il gruppo dei saprofagi qua vedete il rappresentante dell'Aristalistenas che allo stadio larvale si nutre diciamo di sostanze organiche all'interno di acqua ferma pozzanghere fossi soprattutto e quindi un saprofago acquatico vedete il lungo sifone respiratorio qua prima sono andato velocemente e ci torno indietro le larve di sirfidi hanno quel tubo respiratorio che nelle specie che vivono immerse in substrati diventa particolarmente imponente come vedete sotto e funziona come uno snork per un subacqueo come vedete aumenta progressivamente mano a mano che l'habitat della larva riguarda acqua ad esempio liquami quindi ambienti solidi ora vedete le cosiddette larve chiamate a coda di topo quindi la larva sta all'interno dell'acqua del liquido dell'acqua melmosa e respira attraverso questo tubo quindi queste sono saprofaghe queste come vi dicevo una delle specie a maggior potenziale impollinatore abbiamo sirfidi che colonizzano moltissimi habitat naturali e negli habitat naturali sono importantissime oltre alle altre non sono le uniche in certi ambienti forestali possiamo trovare anche dalle 100 alle 50 specie per diciamo per foresta diciamo sulla macroscala ma per avere un'idea queste sono due specie importantissime sono definite saproxiliche in quanto sì in quanto le larve si nutrono di legno marcescente quindi decadente e per questo motivo indicano la continuità di vecchio bosco diciamo indicano la maturità di un sito quindi vivono in tutte queste porzioni di legno di piante morte alcune vivono anche sui rivoli di linfa delle piante e appunto in virtù di queste caratteristiche ecco a livello forestale sono specie importantissime quindi hanno un peso molto forte in ambiente forestale fra l'altro ho inserito la foto dell'adulto di una di queste specie è una specie bellissima guardate che il metismo con le vespe incredibile e queste sono immagini di adulti di questo gruppo trofico bellissime sono fra le specie più belle di sirfidi io vado avanti ecco sirfidi come impollinatori sirfidi sono sempre stati conosciuti come impollinatori perché sono stati studiati meno non lo so me lo chiedo anch'io forse per le loro pecoliarità forse sono talmente versatili che gli entomologi agrari li hanno studiati soprattutto per la loro importanza nella lotta biologica dico adesso la predazione nei confronti di afidi poi ha un nome si chiama lotta biologica oppure dai naturalisti vi ho mostrato le specie con grande interesse naturalistico fatto sta che si è sempre detto che i sirfi sono impollinatori ma solo recentemente è stato quantificato il loro ruolo quali quantitativo come impollinatori vi cito un recente lavoro vi cito un recente lavoro in cui è stato studiato il contributo relativo di insetti impollinatori usando segnalazioni su circa 105 culture i ditteri compresi i sirfidi visitano più del 70% qua indicato 72 delle culture e sono al secondo posto dopo gli menotteri e lepidotteri che comprendono sia le farfalle che le falene quindi i diurni e i notturni come vedete i ditteri le mosche hanno un impatto imponente fra i ditteri i sirfidi hanno un ruolo di primo piano visitano almeno il 52% delle culture con valori aggiunti stimati come vedete questo è un dato di una stima ovviamente si riferisce al valore di queste culture 300 miliardi all'anno poi vabbè sono stime questa è fornita dalla Food and Agriculture Organization e quindi effettivamente hanno un impatto imponente una caratteristica peculiare dei sirfidi che trasportano il polline a lunghe distanze durante la loro azione di foraggiamento a distanze superiori sia farfalle che api questo è un grafico che ho preferito inserirlo originale e vi metto anche la fonte è una review molto interessante sui servizi con imponentatori recentissima in cui è stato fatto uno studio sulle distanze di volo adesso attraverso metodi di confronto quindi è stata calcolata quella che c'è sull'asse dell'y la distanza relativa di volo ovviamente una distanza relativa normalizzata per fare confronti rapportata al numero dei voli come vedete ai primi due posti abbiamo due sirfidi l'eristaris diciamo un cuginetto dell'eristaris tenas che vi ho mostrato prima l'arbustorum è un po' più piccolo la sferoforia mentasta è un'altra spesa e quindi vedete che mediamente a confronto con una farfalla la pieris un paio di api selvatiche i sirfidi hanno diciamo percorrono anzi delle distanze di volo notevoli perché ecco i sirfidi hanno questa caratteristica di elevata mobilità come dicevo che li caratterizza come ho detto molte specie sono migratrici compiono migrazioni attraverso le correnti andando continuamente da nord a sud e viceversa e durante le migrazioni alcune specie raggiungono densità riferita allo stato degli adulti altissime vi mostro questo dato sorprendente di uno studio fatto in Inghilterra il soggetto è Episilfus balteatus una specie che vi ho mostrato prima uno studio con radar su Episilfus e Opeodes che ha stimato usando un radar che circa 4 miliardi di individui si spostano dal sud dell'Inghilterra ogni anno come vedete nella figura è stato uno studio pazzesco anno dopo anno non è l'unico già negli anni 80 sono stati fatti studi sulle Alpi mettendosi proprio nei valichi e catturando gli insetti che attraversavano durante l'immigrazione quindi però questo per avere un'idea così dell'imponenza di questo fenomeno e quindi caratteristiche molto interessanti fra l'altro faccio notare la complementarietà con altri gruppi di impollinatori e questo l'aspetto l'aspetto interessante la complementarietà qua non è che si faccia una gara fra gli impollinatori per l'amor di Dio ma è l'aspetto complementare che è da sottolineare chiaramente qualunque appassionato di sirfidi chiaro che insomma noi magari insomma teniamo più per i sirfidi insomma lo dico scherzando ma ma qua il discorso molto importante appunto è la parola chiave complementarietà poi qualche studio a quanti ecco questo l'episirfis balteatus che vi citavo prima è una specie comunissima questo diciamo il sirfidi per l'antonomasia è presente in tutti gli ambienti è la specie poi che ho incontrato nel rifugio a 2500 metri alla cima libera è questo pensate che è stato anche elevato per un certo numero di anni da una biofabbrica olandese per lanci in campo poi recentemente questa biofabbrica non la leva più ecco vi mostro questo studio che ha cercato di quantificare ecco mediante numeri il valore aggiunto dovuto all'impollinazione di questa specie di sirfide su colza si fanno esperimenti utilizzando gabbie per escludere i sirfidi altre gabbie in cui si mettono all'interno i sirfidi oppure altri insetti insomma in questo modo ci può avere questo studio si chiama mediante exclusion case lo usiamo anche noi ogni tanto in studi sulla lotta biologica come vedete il controllo ha un numero di semi inferiore rispetto ai trattamenti che sono considerati cioè con sirfidi non c'è per la verità una relazione di densità dipendente questo forse per il motivo che insomma i sirfidi sono in condizioni controllate però vedete quantitativamente l'aumento di di produzioni insomma dovuto al sirfide sicuramente in campo agrario c'è l'esigenza di studiare meglio l'apporto quantitativo dei sirfidi come impollinatori di tante altre culture e questo sinceramente dovrebbe essere realizzato in questi anni per avere così un'idea più ampia e precisa tralasciando per un attimo gli ambienti agrari i sirfidi sono importanti impollinatori di flora selvatica in molti ecosistemi compresi naturali in Europa si stima che i sirfidi visitano oltre il 70% delle specie di fiori selvatici impollinati di animali un'indagine sul trasporto del polline di questa specie che è Aristalis Aristalistenas che abbiamo mostrato prima il drone fly in pratica soggetti a regime di conservazione ha mostrato che questa specie può trasportare il polline di circa 65 taxa di polline questo molto interessante e mi mostro un altro lavoro che ha segnalato un lavoro di francesi che ha eseguito questo lavoro usando una tecnica di DNA barcoding cioè un'analisi del polline mediante tecniche molecolari nei pratti montani seminaturali e in ambienti montani i ditteri diciamo tutti i ditteri poi vedremo che fra i ditteri si finiano un ruolo predominante sono gli impollinatori più abbondanti e prevalenti per esperienza poi girando in montagna sui fiori vi sarete accorti si incontrano mosche si incontrano fra gli apoidei si incontrano solo dei bombi e tante farfalle quindi questo studio si è basato sulla raccolta di adulti estrazione del polline mediante estrazione del polline filtraggio e identificazione delle specie botaniche con metodi molecolari anche noi stiamo iniziando uno studio in vari ambienti sia di montagna che di pianura per caratterizzare in Italia il polline portato dalle specie principali ecco in questo studio come vedete sono le proporzioni di insetti quindi l'abbondanza relativa normalizzata di vari gruppi di insetti i ditteri sovrastano tutti fra i ditteri non abbiamo solo i sirfidi ma i sirfidi hanno un ruolo abbastanza importante poi vedete altre famiglie impididi eccetera e quindi questo è un altro diciamo l'efficienza dell'impollinazione è influenzata dalla dimensione morfologia del corpo poi ve lo mostrerò meglio questo è chiaro che sì cosa sono i fattori che influenzano la dimensione morfologia che caratterizzano la dimensione morfologia del corpo quindi la grandezza la loro massa insomma e la presenza di la presenza di peli e queste sono le caratteristiche a livello del corpo che più aumentano la potenzialità di impollinazione inoltre la dimensione dell'apparato boccale ovvero la lunghezza cioè della proboscide insomma dell'apparato boccale vi mostro l'apparato boccale l'ambiente tipico da mosca che è sulla sinistra e a destra vedete un sirfide che si sta nutriendo come vedete c'è questa prominenza questa proboscide che termina con i cosiddetti labelli che sono delle spatole che sono pervase da quelle che sono chiamate pseudotrachee che sono diciamo dei reticoli chitinizati che fanno un po' da carta assorbente sono delle spatole assorbenti attraverso quei labelli il diptero appunto assorbe liquido che poi aspira e ci sono profonde differenze di lunghezza dell'apparato boccale fra le diverse specie comunque la combinazione di queste caratteristiche dimensioni morfologia apparato boccale sembrano essere correlate alla potenzialità di impollinazione mostro casistiche varie allora la prominenza più lunga è questa ringia campestris guardate che prominenza eccezionale che ha questo è la punta di diamante fra i sigerfidi e la ringia campestria è una specie di cui larve sono coprofaghe e questo è un caso diciamo massimo poi abbiamo i nostri ristalini e il capostipite alle ristali stenex vedete quello che abbiamo chiamato drone fly per la somiglianza così al fuco che è circa 7,8 millimetri e vedete anche sotto una specie di volucela la volucela bombilans lo dice il nome sottolineo un'altra volta la la spiccata somiglianza coi bombi di questa e le altre specie dello stesso genere in cui la proboscide è circa 7,2 millimetri ecco queste le dimensioni quindi queste specie sono in grado di nutrirsi su fiori che presentano nettari più profondi e un po' più nascosti delle altre quindi perlustrano bene e poi abbiamo le specie a proboscide corta gli apidologi le chiamano spese a ligula corta a ligula media a ligula lunga quale abbiamo chiamato proboscide quella è diciamo a proboscide più corta qua arriviamo sui 2,9 millimetri il cui capostipite è l'episirvus baldeatus la specie di cui vi ho parlato spesso specie con larvia fidiffage mentre vi ricordo che le ristalis quello al centro ha larvi saprofaghe le larvi coda di topo che vivono nei liquami nei fossi eccetera e l'episirvus ecco fa parte delle specie con apparato boccale più corto e ha i labelli larghi mentre le precedenti hanno i labelli più stretti e apparato boccale lungo cioè quindi si infilzano bene in profondità invece l'episirvus si nutre bene su fiori aperti con netari poco profondi e questa foto l'ho fatta io e non è venuta male considerate che l'ho fatta col mio cellulare con l'iPhone in campo in una prova che abbiamo di agroecologia in cui abbiamo seminato fasce di piante che comprendono specie nettarifere per potenziare i servizi ecosistemici dei sirvi quindi e questa è un fiore di grano saraceno grano saraceno è una pianta che viene utilizzata molto come infrastruttura ecologica seminata a fianco di culture e questa l'ho fatta io e vedete questo è un maschietto di episirvus balteato si riconosce perché ha gli occhi uniti agli occhi uniti gli occhietti uniti fra uno che l'altro non c'è spazio come vedete che si sta nutriendo di fiore di grano saraceno e questa pianta è molto interessante perché ha nettari accessibili per questa specie le cui larvi sono affidifiche quindi in campo agrario è stato molto studiato per questo motivo come vi dicevo dal punto di vista dell'impollinazione la pellosità cioè la caratteristica di avere il corpo percorso pervaso da peli è un indicatore sicuramente del carico di polline trasportabile dell'efficienza di impollinazione in pratica questo si calcola conteggiando il numero di granuli pollinici che vengono depositati sono stigma in ogni visita qua vedete bene una correlazione che è stata fatta da questo articolo che ho citato che è una bellissima review come vi dicevo sui sirfi di compollinatori la correlazione che c'è fra la pelosità della faccia e la deposizione di polline la deposizione di polline per le visite come vedete ecco chiaramente abbiamo l'app che svetta poi vedete subito l'episirphus balteatus scusate l'eristallis tenax in blu in pratica i sirfidi ecco quindi ecco questi questi eristallini hanno un potenziale di pollinazione infatti ve lo mostro questo è un eristallis tenax un po' ingrandito visto da vicino come vedete è caratterizzato da una pelosità diffusa e abbondante compresa la faccia ecco qua si vede bene si vedono bene le caratteristiche dei sirfidi gli occhi da mosca le antenne corte tipiche dei diteri brachiceri hanno antenne con tre articoli la rista che è quel pelo su un articolo antennale qua si vedono bene le caratteristiche ecco in virtù di questa pelosità ma anche dei suoi movimenti è una specie che si muove tantissimo molto attiva questa insomma sembra una specie tra i sirfidi sembra una delle specie con maggior potenziale di impollinazione io mostro anche i risultati di questo studio Cisowski e i collaboratori che è stato fatto in uno studio negli USA nell'Illinois e questi studiosi hanno hanno non hanno usato tecniche molecolari hanno raccolto impollinatori hanno analizzato la copertura di polline sul corpo degli insetti fra questi insetti abbiamo sirfidi però vedete che c'è anche l'ape hanno confrontato tantissimi sirfidi con l'ape con l'ape domestica e il numero medio di polline cioè hanno calcolato una sorta di punteggio medio di carico di polline per normalizzare i dati e come vedete il carico di polline del solito eristallis tenax oddio questa non è la specie tenax ma una specie americana che assomiglia molto al nostro tenax alle stesse dimensioni circa diciamo quindi del rappresentante degli eristallini di quella sottofamiglia ha un diciamo un carico di polline paragonabile all'apis mellifera che vedete lì a destra lì vedete i due histogrammi adesso non fate caso a tutta quella miriade di lettere che ci sono è un'analisi statistica e la concordanza fra le lettere indica la non significatività eccetera quindi è stata eseguita l'analisi statistica e per questo che ci sono tutte quelle lettere comunque vedete che il carico di polline diciamo delle delle ristalis è paragonabile a quello dell'ape domestica ho letto una cosa recentemente mi ha colpito è uno studio del 98 di questo studio di Wilson Wright che hanno studiato quindi non è uno studio diciamo nuovissimo e se ne è sempre parlato poco di questa caratteristica la costanza fiorale è chiaro che le api una delle caratteristiche più importanti è la costanza fiorale ebbene questi studiosi hanno analizzato il comportamento di queste due specie episirfus balteatus il solito episirfus e a destra un un sirfus ilbesi e hanno mostrato in esperimenti controllati il fenomeno della costanza fiorale in attività di foraggiamento all'interno di comunità miste di piante e sono rimasto francamente colpito dell'uso di questa parola per per ditteri per sirfidi gli stessi autori dicono comunque che è improbabile che la costanza fiorale dipenda da un fenomeno di learning di apprendimento io non sono un esperto diciamo di etologia di learning anche se un po' me ne occupo diciamo penso che probabilmente gli autori abbiano voluto dire che non dipendendo da un fenomeno di apprendimento la spiegazione è che i sirfidi foraggino principalmente sul polline che è di facile localizzazione e disponibilità all'interno dei fiori che visitano quindi diciamo che fanno di necessità virtù probabilmente fatto sta che in una comunità evidentemente isolati fiori che riescono a frequentare meglio ci si buttano sopra con assiduità e questa cosa comunque mi ha colpito evidentemente foraggiano e finché ci sono fonti alimentari insomma rimangono e per questo motivo quantititivamente hanno una certa importanza mi ha colpito comunque è la prima volta che ho sentito parlare di fenomeno di costanza fiorale in in taxa come i sirfidi che è un termine che si usa per gli apoidei insomma ci sono due domande prego allora io prego allora la prima un nostro ascoltatore chiede se se i sirfidi pungono cioè se hanno un pungiglione o possono pungere attraverso l'apparato boccale che ci hai mostrato e l'altra in qualche modo collegata alla prima è se i sirfidi possono essere pericolosi per le persone allergiche conosciamo il fenomeno della dell'allergia alle punture di di alcuni certo allora rispondo a queste domande e allora i sirfidi non pungono non pungono assolutamente ovviamente non pungono perché non sono aculeati ovviamente ma non non hanno apparati boccali in grado di perforare quindi assolutamente no possiamo stare tranquillissimi e non quelle proprio non ci sono segnalazioni assolutamente assolutamente certi ditteri sono ematofagi troviamo i tabani con i tabani che hanno tutto un apparato boccale modificato con stiletti chitinizzati che tagliano diciamo ecco nessun sirfide ematofago e in ogni caso ha caratteristiche dell'apparato boccale quindi questo è da escludere vi dico una cosa particolarissima che parlando con amici e colleghi colleghi amici sirfidologi è incredibile catturando certe specie di sirfidi non tutte ma alcune mi ricordo per alcuni gruppi che catturavamo con retino che questa specie dopo cosa si fa con retino si raccoglie il sirfide si si mette la mano all'interno del retino si si prende delicatamente il sirfide e si mette nel barattolo eccetera alcune specie muovono freneticamente l'addome come col tentativo di pungere come fanno gli menotteri è incredibile questa cosa mi ha colpito tantissimo io non ve lo so spiegare capita solo con alcune specie quindi io non so se ci siano delle associazioni fra comportamenti mimetismi una cosa che ci ha colpito tantissimo questa ovviamente sono finte punture sono non punture perché come vi dicevo assolutamente i sirfidi non pungono e non sono diciamo e non hanno un apparato bocale però ve la segnalavo io non conosco non conosco segnalazioni di allergia assolutamente devo dire che non ne ho mai sentito parlare quindi la cosa è stata studiata ma diciamo che per questo motivo non pungendo non avendo emissione di sostanze tossiche insomma escluderei anche questo fatto poi a livello sapete per esempio che se non sapete ve lo dico le coccinelle hanno degli alcaloidi presenti che sono stati caratterizzati nel corpo che dà un sapore amaro da un sapore amaro che dovrebbe agire come metodo dissuasivo per predatori perché molti animali sanno che nutriendosi di coccinelle si entra in contatto con un sapore amarognolo anche molto sgradevole ecco non so se è stato fatto uno studio sui silvi io lo escluderei comunque quindi direi proprio che non non sono state ci sono altre due domande stanno prego mi fa bebe prego riprendiamo poi dopo la tua presentazione però una domanda interessante scusa ma è importantissimo perché anche a livello divulgativo pensiamo agli ambienti urbani molti confondono i sirfidi con con vespe o addirittura api insomma e quindi ecco questo è molto importante anche a livello di base dire subito questa cosa perché certo prego prego allora le domande sono se se puoi indicare delle pratiche che possono essere eh attuate anche da da comuni cittadini o da agricoltori per aumentare la presenza dei sirfidi eh nelle che sono positivi sulle sulle culture sì e un'altra domanda invece eh se puoi suggerire anche una una guida eh pratica per per il riconoscimento eh dei sirfidi anche per per non specialisti e terza domanda è ehm quando li vediamo in volo come si fa a riconoscerli da api e vespe se sono così tanto simili allora rispondo parto dalla domanda numero tre se siete d'accordo e poi vi dirò perché allora come dicevo in volo si riconoscono nella parte dei casi diciamo in molti casi dal volo librato volo sospeso vi ho mostrato ci torno indietro ecco il volo librato non riguarda tutte le specie cioè questa è una foto quindi è statica ma è una metafora di quello che voi vedreste se ci fosse un sirfide davanti a voi si mettono in posizione immobile di volo come un piccolo elicottero certe mosche i fannidi hanno un volo insomma un pochettino è un volo librato con traiettorie un po' circolari i sirfidi rimangono sospesi in aria in modo imponente e questa è la caratteristica che ci permette perché hanno un volo molto rapido e quindi in volo non è semplicissimo diciamo osservarli quando rimangono così fermi in volo librato si riconoscono abbastanza bene l'episirfus se vedete questa specie insomma con un occhio un po' esperto si riesce a capire anche che è episirfus balteatus in molti casi quindi il volo librato elicotteri overfly ricordatevi overfly per gli anglosassoni questa è la caratteristica più tipica poi al volo così sottolineo che hanno due ali e non quattro hanno gli occhietti da mosca come vedete hanno proprio quegli occhi composti tipici da mosca quindi con un'immagine molto repentina sono queste le caratteristiche però ecco non tutte le specie hanno questo volo librato però queste specie che non hanno volo librato non si vedono molto bisogna andarli un po' a scovare in mezzo alle piante nei fossi alcune specie vengono catturate con un rettino da sfalcio sulle piante ecco quindi lo dico proprio per precisione il volo librato non riguarda tutte le specie spero di avere un po' risposto per le altre due domande io ti rispondo volentieri perché ho tutta la seconda parte della mia presentazione che riguarda proprio queste due domande metodi per potenziare la presenza e l'attività dei sirfidi in campo agrario anche e l'altra domanda come chiavi testi riconoscimento esatto vi presenterò alcune così alcuni testi che vi posso consigliare fra l'altro alcuni di questi ve li posso anche fornire mandandovi un pdf perfetto e quindi prego hanno anticipato la seconda parte dell'intervento e tutti i materiali che ritieni possano essere utili a parte le pubblicazioni che ci siamo scambiati nella preparazione del progetto live di cui acceneremo anche alla fine della tua presentazione sono benvenute noi le caricheremo tutte sulla pagina del sito del WWF dedicato al progetto BISCafe sulla piattaforma Edmodo in modo che possano essere a disposizione di tutti certamente io sono molto contento e a nome dei miei amici coautori e quindi oltre a Giovanni Burgio Daniele Birtele e Daniele Sommaggio due grandissimi sirfidologi abbiamo fatto un testo molto divulgativo per l'introduzione diciamo i primi fondamenti per l'identificazione non abbiamo usato chiavi tassonomiche quindi abbiamo fatto l'identificazione sotto forma di schede e quindi sono ben contento di inviarle si può anche scaricare fra l'altro gratuitamente in un sito dell'Apat e poi vi ho messo anche qualche testo in inglese ce ne sono tantissimi sui sirfidi più specialistici più specialistici diciamo però facevo notare che dopo quel testo famoso di Rondani quella monografia sui sirfidi in Italia non era comparso più un testo unico diciamo sui sirfidi e l'abbiamo scritto noi recentemente usando un approccio molto molto divulgativo soprattutto per cercare di sostenere di non so se dire aiutare o istruire chiunque si voglia occupare di sirfidi anche nella bioindicazione insomma anche nella bioindicazione quindi col materiale non so se c'erano altre domande si guarda le domande ne stanno arrivando tante direi che io ti farei andare avanti con la tua presentazione va bene come volete voi rispondiamo alle due che sono arrivate e poi queste te le ripropongo benissimo 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 possiamo fare una piccola metafora di quello che abbiamo detto fino adesso abbiamo chiamato gruppo multifunzionale abbiamo visto le caratteristiche degli adulti delle larve allora sintetizziamo tutto facciamo una piccola metafora i sirfidi sono degli efficacissimi bioindicatori per tutte queste caratteristiche ovviamente avete visto che per la presenza di diversi regimi alimentari occupazione di diverse nicchie chiaramente sono associati al proprio ambiente e ne indicano la qualità e la bioindicazione utilizzata di sirfidi analogamente con altri gruppi viene studiata calcolando il numero di specie ad esempio presenti in un ambiente in un habitat importantissimo lo ribadisco il numero di specie appartenenti a diversi gruppi funzionali è utilissimo nella bioindicazione ma in qualunque tipo di habitat o paesaggio indicare il numero di specie fitofage zoofage ovvero predattrici saprofage perché questo è associato direttamente mediante loro funzioni ecologiche proprio agli habitat in cui gli insetti vivono se ci pensiamo è chiaro che si studiano soprattutto gli adulti ok sono buoni impollinatori gli adulti e si studiano gli adulti perché è anche più semplice studiarli ma sono le larghe a essere i veri bioindicatori perché sono loro legate a queste funzioni ecosistemiche diversificate inoltre la presenza diciamo di certe specie questi sono i parametri che si usano per la bioindicazione e la bioindicazione può riguardare gli ambienti agrari quelli forestali le zone umide i parchi prati seminaturali ad esempio e quindi veramente la versatilità è massima vi mostro un articolo che abbiamo fatto insieme mio carissimo amico e collega Daniele Stommaggio sui silfidi come bioindicatori su scala di paesaggio in agroecosistemi del nord Italia uno studio che abbiamo fatto in Emilia diciamo questo è un esempio adesso non voglio infarcirvi di dati ma per dirvi che insomma conservazione di silfidi e qua arrivo piano piano alla risposta di quelle due domande la conservazione di silfidi ovviamente è importantissima è stata studiata vi cito questo bellissimo articolo che infatti è finito su Science del 2006 questo è stato uno dei primi articoli a quantificare il declino il declino degli impollinatori confrontando il declino degli apoidei e quello dei sirfidi ok qua infatti ci sono specialisti di entrambi i gruppi nord europei ed è un lavoro che ha preso in considerazione dei data base nazionali e ha calcolato la ricchezza in specie di questi di questi taxa quindi apoidei e sirfidi prima e dopo il 1980 quindi dove è stato fatto in Olanda in Inghilterra erano disponibili banche dati molto vecchie che ci dicevano le specie che c'erano prima dell'80 e le hanno confrontate con le specie presenti ora e questo lavoro è stato così diventato molto famoso nell'entomologia applicata allora qua vedete l'analisi della conservazione di apoidei britain bees e britain sirfid è stata fatta studiando le specie presenti in quei quadratini sono aree di 10 per 10 km vedete il colore rosso indica che abbiamo un decremento abbiamo un decremento il cambiamento della ricchezza in specie ecco specialization change è la ricchezza in specie quindi dove vedete puntini rosso abbiamo un decremento dove vedete puntini rosa c'è un decremento meno spinto i colori azzurini indicano un incremento vedete a occhio la situazione è un po' diversa per gli apoidei e i sirfidi infatti con i miei studenti magari parlando dico hanno più sofferto le api o i sirfidi si vede che il declino per la presenza di un maggior numero di quadratini rossi è più evidente per le api selvatiche 52% dei casi il declino è presente per i sirfidi e c'è e quindi però è meno marcato e c'è qualche caso di incremento è curiosa questa situazione quindi declino per entrambi più grave per gli apoidei un po' più contenuto per i sirfidi questo è in Inghilterra in Olanda le cose sono simili questo è per l'Olanda in Olanda insomma gli apoidei selvatici evidentemente non sta molto bene prevalgono i quadratini rossi di decremento di decremento e in Olanda c'è qualche caso di decremento qualche caso di incremento e altri casi di decremento diciamo contenuto quindi l'andamento è simile declino consistente per gli apoidei meno marcato per i sirfidi questo lavoro è interessante perché ho confrontato qua vedete la scala sono 50 km poi vabbè è chiaro perché abbiamo un'immagine dell'Olanda e dell'Inghilterra perché qual è l'interpretazione allora il declino evidentemente è più marcato per le specie specializzate nell'habitat e nella preferenza fiorale e come preferenza fiorale gli apoidei sono sicuramente più specializzati dei sirfidi i sirfidi sono un po' più generalisti il declino è più marcato per le specie univoltine e fra i sirfidi abbiamo anche specie polivoltine cioè che compiono univoltino significa compie un'unica generazione evidentemente se si compie un'unica generazione si è un po' più vulnerabili ecco e molte specie di sirfidi compiano più di una generazione il declino è più marcato per le specie che non migrano e abbiamo visto che molte specie di sirfidi compiono immigrazioni migrando si spostano maggiormente quindi questa è l'interpretazione del perché i sirfidi sono stati meno colpiti pur essendoci un certo declino anche per i sirfidi però nei sirfidi abbiamo specie migratrici i sirfidi sono sensibili al degrado su scala di paesaggio però sono più generalisti come preferenze fiorali i sirfidi mostrano come famiglia un pool di specie e come l'abbiamo visto con range maggiore di habitat di sviluppo sono più versatili cioè hanno più chance probabilmente per i sirfidi il declino potrebbe dipendere il declino che c'è stato dipendere da specie più specializzate che poi ci sono anche fra i sirfidi però abbiamo visto che è una famiglia pazzesca con un range talmente ampio di esigenze che evidentemente per questo motivo si può tradurre con la parola i sirfidi hanno probabilmente una maggiore resilienza rispetto agli apodei poi il discorso è complesso e arriviamo al punto vi mostro questo lavoro recentissimo non l'ho ancora letto bene ecco per esempio questi sono gran sirfidologi e Antivuic in particolare è un sirfidologo serbo bravissimo lui è un sistematico puro e insieme a collaboratori hanno hanno pubblicato queste previsioni hanno fatto un po' le previsioni dei sirfidi diciamo come le previsioni del tempo e mi ha colpito devo leggere ancora con attenzione però vi mostro che c'è qualche stima anche di cosa succederà nel futuro per i sirfidi previsioni per il 2061 2080 indicano che circa il 50% delle specie di sirfidi espandere il range di presenza e il 45% ridurre il range mediamente facendo una stima diciamo sui cambiamenti del range di presenza per la maggior parte delle specie siamo sul 20% come cambiamento di range quindi in pratica insomma i sirfidi mostrano una resilienza relativamente alta insomma hanno previsto qualche cambiamento ma circa sul 20% ecco come range ecco questo è curioso questo studio ecco i sirfidi arriviamo potenziamento dei sirfidi valorizzazione della loro attività sia come agenti di rotta biologica che di impollinazione ovviamente allora i sirfidi sono un modello di studio per l'agricologia di sicuro e su le ricadute delle tecniche di gestione del paesaggio compreso il paesaggio agrario e soprattutto direi a diverse scale è chiaro che ci si basa su una sorta di principio generale che non è un dogma la parola dogma non va mai usata nella scienza ma una tendenza che c'è che aumentando come vedete in questi tre grafici dal basso verso l'alto da C ad A aumentando la complessità ecologica di un ambiente aumenta la diversità funzionale vedete che ambienti più diversificati dal punto di vista ecologico mostrano delle catene trofiche più complesse come si vede occhio allora cosa sono i nemici dei sirfidi i nemici dei sirfidi sono i trattamenti esseticidi può sembrare una cosa scontata ma non va mai dimenticato alla fine per diciamo portare avanti modelli di agricoltura sostenibile a qualunque livello è sempre importante ridurre l'input dei seticidi proprio è basilare cioè se potenziamo la diversità vegetale e poi continuiamo a eseguire tanti trattamenti nei campi coltivati tutto va in fumo insomma quindi i trattamenti dei seticidi sono i nemici dei sirfidi numero uno diciamo due perdita di habitat e diversità vegetale abbiamo visto che le larve frequentano tantissimi ambienti gli adulti si nutrono di fiori di polline nettare sui fiori quindi la perdita di habitat e diversità vegetale è l'altro nemico dei sirfidi tra la degradazione del paesaggio cioè quel fenomeno di erosione della complessità che riguarda la scala di paesaggio questi sono i fattori più importanti e chiaramente se mitighiamo questi fattori noi otteniamo una efficiente conservazione dei sirfidi allora i sirfidi frequentano tantissimo abbiamo visto che sono generalisti cioè vanno su parecchie specie vegetali prediligono le specie vegetali con l'arco infioriscenza e con nettari non nascosti belli visibili come ad esempio filipendula vedete tutte le apiace e se volete osservare campionari sirfidi seguite dei dei margini con apiace in fiore sicuramente troverete tantissimi sirfidi ecco qua sono esempi di generi di specie botaniche di apiace che sono molto attrattivi fioriture stesse sono l'ambiente ideale per i sirfidi qua mi ricollego anche a considerazioni su ambienti diciamo fra virgolette naturali ambienti forestali però abbiamo anche arbusti come crategus prunus sambuco salis che hanno fiori che attraggono i sirfidi c'è anche il feniculum vulgare queste sono tutte specie diciamo che favoriscono l'aggregazione dei sirfidi quindi per la conservazione dei sirfidi la valorizzazione dei servizi ecosistemici diciamo soprattutto in campo agrario dove magari noi possiamo agire su queste variabili agroecologiche operiamo mediante un aumento della complessità ecologica io ho aggiunto vedete appropriata la biodiversità ecologica e l'agroecologia va sempre fatta in maniera direzionata e non a caso per evitare disservizi sempre quindi studi direzionati molte piante non coltivate ovviamente offrono come cibo alternativo sia polline e nettere ma anche cibo animale molte piante spontanee ospitano afidi che vengono mangiati dai sirfidi quindi è una doppia fornitura di risorse su scala di campo vedete ho un po' sintetizzato gli interventi su scala di campo quindi la valorizzazione di tutti i margini erbosi misti questi margini erbosi che vedete ai lati dei campi se vengono valorizzati se non vengono diserbati offrono risorse importantissime fra l'altro in molti campi coltivati sono gli unici hotspot di biodiversità vegetale sono le infrastrutture ecologiche semplici ma potentissime e offrono risorse importantissime soprattutto per i sirfidi non solo però e qua vedete margini misti le siepi forniscono dei punti di aggregazione importanti perché offrono microhabitat per i sirfidi molto molto cercati e importanti in quanto offrono luoghi di ombreggiamento fresco e quindi l'ideale è il margine misto insomma costituito da piante arbustive arboree e derbace però ecco anche prego Giovanni scusa ma sei andato avanti con la diapositiva perché noi abbiamo sempre la stessa la stessa slide iniziale quella dove c'era c'era la diversa quantità di specie in redazione alla diversificazione dell'agroecosistema adesso vedete no siamo sempre sempre fissi sulla stessa slide strano perché io sono andato avanti guarda prova a uscire faccio un'altra condivisione si si lo rifaccio subito adesso vedete si adesso vediamo vediamo le nuove slide magari se poi ah perfetto a quella precedente scusatemi ma è strano perché io vedo ecco eravamo rimasti qua no esatto ecco ecco io grazie per avermelo detto Franco ecco qua ho mostrato esempi di piante con fiori ampi con infiorescenze e qua sono filipendula e a piace ecco era solo per mostrarvi ecco qua ho parlato molto ho fatto vedere quest'immagine e poi ho mostrato le diverse scale spaziali di intervento in campo agrario partendo dalla scala di campo e e vedete lì quegli esempi che io ho citato di margini erbosi margini misti compresi quindi di specie arbore arbustive ed erbace che sono l'ideale perché offrono una una struttura complessa però anche questi margini erbosi semplici sono ecco fra l'altro lì sono presenti proprio delle ombrelifere piace insomma che dir si voglia l'ho fatta io quella foto e ai margini di un campo coltivato nella provincia di Bologna quindi poi i margini erbosi non devono diventare degli colti vanno sfalciati periodicamente però un primo step nell'agricoltura sostenibile è di non distruggere e non diserbare questi questi margini almeno secondo un approccio agroecologico che io sostengo fermamente è un punto molto importante è chiaro che poi periodicamente questi margini vanno sfalciati ma in maniera diciamo conservativa usando la parola soft diciamo ecco pure sfalciandoli in modalità alternata su scala d'azienda possiamo oltre che a sfruttare queste risorse diciamo naturali che abbiamo visto sulla scala di campo andare a seminare mediante tecniche di intercropping miscugli di specie chiamate nettarifere miscugli oppure non so consociazioni polifite che possono essere anche di due o tre piante oppure una unica specie qua vedete tutti esempi di strisce di piante nettarifere le vedete perché sono in fiore che sono messe in mezzi che sono messe all'interno di campi coltivati mediante una sorta di tecnica intercropping le possiamo mettere anche ai bordi dei campi quella a sinistra l'ho fatta io in un'azienda lì si vedono fioriture di crucifere vedete il bel colore giallo recentemente le crucifere si usano un po' meno perché sono piante con un certo potenziale infestante quindi qua si vedono bene perché hanno una fioritura molto precoce effettivamente hanno una fioritura precoce caratteristiche molto interessanti però hanno un certo potere infestante recentemente si preferisce non mettere almeno è chiaro che se ci pensate se sommiamo la valorizzazione su scala di campo su scala di azienda tutte queste diciamo diversificazioni ecologiche vanno a proiettarsi sulla ampia scala di paesaggio implementando la qualità del paesaggio agrario aumentano le zone verdi come vedete a sinistra vedete un paesaggio meno complesso più frammentato a destra vedete un'azienda al centro del cerchio che è circondata da un paesaggio più complesso e la complessità si indica proprio misurando la densità dell'infrastruttura tur escologiche tutti questi interventi su scala di campo e azienda queste implementazioni vanno a ripercuotersi positivamente sul nostro landscape sul nostro paesaggio ecco vi mostro piante che sono state usate in agricoltura sostenibile per potenziare tanti insetti utili compresi i sirfidi la faceglia è la prima studiata e io penso che uno dei sono quasi sicuro uno dei primi studi negli anni 80 del ruolo della faceglia in agroecologia è stato proprio per studiare l'impatto sui sirfidi ora la faceglia è una pianta usata moltissimo dagli apicultori perché fornisce un pascolo per api e poi dei è una pianta non autoctona è una pianta alloctona di origine americana recentemente molti non la consigliano ovvero la sconsigliano adesso io vi cito questo caso perché fatto sta che è una pianta che è stata la prima a essere studiata e tuttora viene diciamo proposta lo dico una pianta alloctona e poi questo è un discorso molto ampio e complesso però ecco alcune persone per esempio non sono molto dell'idea di continuare a inserirla il coriandolo il grano saraceno e come vi dicevo queste sono piante che hanno dei nettari accessibili per le specie affidifache e poi altri esempi di piante io vengo da Agraria ma non sono un botanico quindi la gastacchia rugosa è una pianta che mi aveva colpito l'achillea vabbè varia piace e un'altra pianta molto interessante che è l'alisso la lubulare marittima che fornisce un ettere di elevata qualità ha una fioritura molto lunga è un'altra pianta che è stata studiata per implementare i singoli queste piante possono essere usate in miscugli oppure in in essenza singola diciamo per esperienza la faceglia è una pianta abbastanza competitiva quindi bisogna stare attenti nei miscugli perché tende un po' a sopprimere le altre quindi andrebbe messa su fili di vela ecco queste sono le piante che sono state più studiate poi il discorso il discorso è molto ampio si possono usare anche leguminose si possono usare anche piante leguminose che si trovano diciamo all'interno delle classiche cover crop e poi se volete ne parliamo di questo argomento per un giorno intero il concetto comunque chiave è questo che ho ripetuto qua aumentare la complessità ecologica a diverse scale quindi se lavoriamo più per potenziare il paesaggio dobbiamo fare in modo che i nostri interventi vadano a rendere più complesso diciamo la macroscala a livello di campo e di azienda ecco dobbiamo cercare di valorizzare la biodiversità vegetale in vario modo compreso la presenza di fiori ma non solo in modo da favorire l'attrazione dei sirfidi la nutrizione e questo è importante per potenziare la loro fitness e favorire la loro permanenza in situ e aumentare la possibilità e la probabilità che le femmine vadano a deporre le uova nel campo coltivato in modo che possa essere potenziata la lotta biologica quindi questo ragionamento è molto focalizzato sui sirfidi affidiffagi quindi i nostri sirfidi colare predatrici e quindi il concetto è questo quindi questo è questa diciamo è la gestione ottimale del paesaggio per per potenziare la loro la loro permanenza e fitness vi dico che a livello di azienda i sirfidi offrono risposte molto variabili perché gli adulti sono molto molto mobili quindi alle volte non è semplicissimo valutarli perché l'aspetto importante vi dico subito che se mettiamo queste specie vegetali in eterifere oppure valorizziamo questi margini troviamo degli aeroporti di sirfidi quindi su questo l'impatto cioè la ricaduta sugli adulti è spettacolare posso dire poi se mettiamo faceglia troverete anche tantissimi o altre legumi oppure leguminose troverete anche tante api apoi dei eccetera a seconda degli ambienti è chiaro che lo scopo in campo agrario è di favorire non solo la presenza degli adulti che già sono importanti nell'impollinazione quindi benissimo abbiamo già raggiunto uno scopo ma favorire la ovvia deposizione delle femmine nel campo coltivato ecco la lotta biologica aumenta se riusciamo insomma a convincere i sirfi di affermarsi e aumentare le popolazioni larvali perché sono le larve che compiono la lotta biologiche poi come vi ho detto torna a quel punto riduzione degli insetticidi uso di prodotti insetticidi selettivi quello è fondamentale che non va mai dimenticato perché è un aspetto che sembra scontato ma pensate che se noi utilizziamo tutte queste tecniche biologiche per attrarre gli adulti e poi andiamo a fare un trattamento nella cultura vicina facciamo quello che in gergo si chiama trat and kill quindi tutto questo deve essere accompagnato da un utilizzo sostenibile delle risorse da un tipo di disciplinare di difesa sostenibilissimo quindi la parola chiave ridurre gli insetticidi e usare quelli selettivi altrimenti purtroppo tutti questi accorgimenti possono andare in fumo oppure essere una diciamo quasi un disservizio spero di aver risposto a a questa insomma a questa domanda e non so se ce ne sono altre allora sì di domande ne abbiamo ne abbiamo davvero tante innanzitutto arrivano tantissimi complimenti nel senso che i sirfi li stanno stanno affascinando e trovano l'argomento mi fa piacere e soprattutto ti mandano tanti complimenti perché spiegazione estremamente chiara ed efficace e allora le domande sono tante poi riprenderemo anche quella sui suggerimenti per le guide e come dicevo i materiali certo li mettiamo poi a disposizione anche sul nostro sito certo che ci arrivo dopo allora le domande sono allora se si sa qualcosa sulle relazioni tra i sirfidi e gli altri insetti impollinatori ad esempio le relazioni tra sirfidi relazioni e interazioni tra sirfidi e apoidei o altri impollinatori se i sirfidi sono animali solitari o sociali come avviene nel caso dell'ape mellifera e se sono animali allevabili e in caso positivo con quale tecnica può essere utilizzata per allevarli e altra domanda se i sirfidi vengono predati dagli animali che predano le api come ad esempio il gruccione o quali sono eventualmente altri nemici naturali dei sirfidi e ultima domanda ecco è proprio relativa agli interventi agronomici c'è chi chiede perché i margini inerbiti con fiori nettariferi vanno sfalciati le domande sono tante si sono tante intanto grazie per le vostre considerazioni vi ringrazio tanto e dunque adesso provo a rispondere magari rispondo in modo random perché non mi ricordo la fila esatta e aiutami franco a allora nemici naturali potrebbero essere predati poi in volo insomma adesso mi riferisco in generale a tante specie quindi sicuramente un po' di adulti diciamo insomma in natura è difficile morire di vecchiaia quindi anche gli adulti probabilmente possono subire diciamo un po' di predazione ecco su questo si è indagato poco o almeno io ne sono poco diciamo al corrente soprattutto insomma non ci sono tanti studi sapete perché perché i nemici naturali diciamo dei sirfidi più importanti sono i parasitoidi adesso questa parte non l'ho messa ma ve la dico grazie per la domanda i parasitoidi allo stadio larvale subiscono un'elevata una elevata parasitizzazione dipendentemente dalle specie ovviamente le specie affidifaghe sono parasitizzate dai menotteri soprattutto un diciamo un attributo di icneomonidi che si chiamano diplazzontini ma anche altri taxa subiscono parasitizzazioni larvali che in certi possono essere dell'80% dimostrato quindi sono i parasitoidi dei sirfidi essere nemici naturali cioè diciamo i loro fattori di controllo più importanti probabilmente infatti questa domanda è molto bella perché apre tutta una serie di scenari ecologici perché probabilmente una caratteristica che si è notato insomma per specie affidifache che sono diverse è che insomma spesso fluttano come abbondanza da una nell'altro e la parasitizzazione di queste specie potrebbe essere uno dei motivi diciamo della loro relativa variabilità ecco i margini dei campi ho detto vanno sfalciati diciamo periodicamente per favorire il ricaccio per una operazione diciamo di manutenzione e per favorire appunto anche il loro ricaccio ed è un'operazione diciamo consigliabile io ho parlato di sfalci conservativi in quanto è sempre consigliabile usando queste approcci agroecologici mandare in fioritura le piante quindi mandarle in fioritura come vi ho mostrato ecco in questo fosso sotto per sfruttare a pieno tutte le caratteristiche ecologiche che forniscono le piante soprattutto come risorse fiorali come presenza di prede ma poi io parlo di sirfidi io mi occupo di valorizzazione di agenti di lotta biologica vi dico anche che fra giugno in luglio si moltiplicano su quei margini tante specie di coccinelle quindi importante mantenerle diciamo per i periodi estivi diciamo che magari la manutenzione può essere lo sfalcio insomma può essere effettuato magari in tardi estate ecco per favorire il ricaccio insomma per avere un piccolo compromesso togliere magari qualche pianta potenzialmente infestante che in certi periodi va ecco era quello il riferimento alla gestione che può essere chiamata conservativa poi dopo dunque altre domande si ti riferisco io la memoria un ascoltatore chiedeva se si sa qualcosa sulle relazioni tra i sirfidi e gli altri insetti impollinatori come ad esempio gli apoidei o altri o altri spessi impollinatori su quello si sa poco ovvero io so poco penso che non ci sia tanto però sono stati studiati i comportamenti di alcune specie di sirfidi come gli eristalini che sono molto territoriali alcune specie sono territoriali e vanno a scacciare dei soprattutto i maschi e vanno a scacciare potenziali rivali ecco questo è un fenomeno che in certi casi è stato visto ed è stato visto soprattutto per gli eristalini e questo è stato segnalato e andrebbe effettivamente studiato per vedere se può comportare un po' una riduzione del potenziale di impollinazione ecco studi di competizione interspecifica a parte magari competizioni dovute alle risorse io non ne sono tanto a conoscenza ecco però ecco ribadisco rispondendo parzialmente questa domanda che alcune specie di sirfi sono territoriali quindi i maschi possono ostacolare individui conspecifici per una questione proprio di competizione con la femmina e questo infatti è stato posto questa problematica anche per studiare metodi per ridurre questa competizione territoriale e proprio li possono attaccare aggredendoli anche in alcuni casi poi le altre domande le altre domande sono se se i sirfidi sono animali solitari o sociali e se sono allevabili e in caso positivo con quale esplica giusto giusto sono sono solitari diciamo i sirfidi non hanno non hanno fenomeni di socialità o eosocialità ecco questo sono solitari non sono sociali i sirfidi si possono allevare si possono allevare prima vi ho citato una biofabbrica che allevava l'episirfus balteatus ve lo ricordate l'episirfus sì esatto lo volevo quello a sinistra sul grano saraceno e poi ho smesso di allevarla sapete cos'è la difficoltà di allevare i sirfidi allora uno alcune specie alcune specie si accoppiano in volo hanno bisogno di ambienti alti hanno bisogno di gabbie alte e l'episirfus una di queste quindi da allevare è difficile perché bisogna avere gabbie molto alte per permettere l'accoppiamento altre specie si accoppiano anche in posizione bassa o sulla pianta infatti altre specie sono allevate noi recentemente stiamo facendo prove di selettività anzi una dottoranda che si chiama Katia Martins è il collaboratore il mio carissimo collega il professor Fabio Sgolastra che abbiamo noi sirfidologi istitutati abbiamo detto mettiamo anche i sirfidi per la valutazione della tossicità dell'insetticida e alla fine stati mesi stanno facendo studi e invece di allevarli li abbiamo presi da una biofabbrica spagnola che alleva una specie che si chiama sferoforia ruepelli ed è allevabile con una discreta diciamo facilità allevare i insetti non è mai facile i sirfidi sono quelli forse meno facili da allevare però è possibile allora il punto chiave quindi favorire l'accoppiamento alcune specie si accoppiano in condizioni più diciamo semplificate anche sulle pareti di gabbie o sulle piantine come vi dicevo le specie che si accoppiano in alto sono più difficili da allevare poi una volta che le femmine sono fecondate bisogna bisogna farle convogliare insomma farle farle ovideporre su piantine quindi per la femmina per migliorare la fisica della femmina è necessario fornire o fiori oppure liquidi zuccherini anche con piccoli dispenser con piccole ampolle e pendorforate quindi l'alimento chiave polline nettere però dopo che abbiamo fatto videporre la femmina dobbiamo avere prede per per le larve se alleviamo specie affidifaghe se alleviamo specie affidifaghe predatrici quindi è necessario avere piantine su cui allevare contemporaneamente gli afidi per avere diciamo l'alimento per le larve per alcune specie si riesce a fare a ottenere ma cito una carissima amica grandissima sirfidologa la Maria Angeles Garcia dell'Università di Alicante che è stata una dei primi sirfidologi a allevare queste specie e lei appunto allevava queste specie Opeodes e Sferoforia che si allevano un po' meglio di altre quindi è possibile quindi i punti chiavi sono questi farli accoppiare avere alimento per gli adulti e avere a un certo momento l'alimento e qua ci vogliono affidi quindi bisogna allevare piantine infestate da affidi per le specie saprofoghe ho notizia che qualche biofabbrica sempre una biofabbrica spagnola sta iniziando a allevare delle specie saprofaghe un parente dell'eristallis tenax si chiama eristallinus eneus ed è un parente del nostro eristallis che vediamo a sinistra è una specie più piccola e nera diciamo e per queste specie sono saprofaghe basta avere dei contenitori di acqua con un po' di sostanza organica a fare deporre fare deporre dalla femmina e poi penso che l'allevamento di queste specie sia relativamente semplice perché hanno insomma le arvi vivono in questi liquami nei fossi nelle pozzanghere è interessante che questa specie si sta allevando sicuramente come potenziale impollinatore ecco comunque i punti salienti nell'allevamento sono questi spero di avervi risposto sì guardo un'altra domanda è arrivata visto che avevi proprio la diapositiva sulle specie ci chiedono se sarà possibile avere tra i materiali che ci metti a disposizione una lista di specie per poter realizzare una sorta di giardino per i sirfidi specie vegetali sì specie vegetali va bene io poi quelle specie che ho citato guardate tutte queste specie e adesso quest'anno nella mia terrazza ho già un po' di con menta varie piante ho seminato anche a facere in qualche vaso tutte queste piante sono a parte gli scherzi sono adatte pensate che l'alisso che vi ho citato si chiama l'ubularia marittima comunque vi posso procurare ulteriori lavori ma questo sintetizza abbastanza perché come vi dicevo queste specie che vedete fenicum vulgare achillea alisso quest'altra pianta la gastacchirugosa la conosco meno ma l'ho vista coriandolo grano seraceno sono tutte piante eccezionali aggiungo tutte le ombrellifere o a piace scusate a me viene distinto chiamarle ombrellifere so che adesso vengono chiamate più probabilmente a piace tutte queste piante pensate anche la daucus carota che è una pianta diciamo comune fra l'altro è poco infestante sono tutte piante eccezionali per attirare i sirfidi poi i sirfidi sono molto generalisti quindi prati anche ranuncoli insomma tutte queste piante che vanno vanno bene è chiaro che se mettete queste queste sono proprio eccezionali e quindi allora un'altra domanda un ascoltatore ci segnala che anche leguminose mi senti sì certo ok dicevo un'altra domanda un collega di un ascoltatore ci segnala che ha osservato numerosi esemplari di sirfidi nel periodo di fioritura dell'edera secondo te c'è un collegamento è stato è stata studiata una relazione tra tra l'edera e i sirfidi non tanto devo dire però è interessante l'edera in quel periodo fiorendo o adesso non voglio è una fioritura abbastanza precoce mi sembra fino inverno se ben ricordo è una pianta che viene diciamo frequentata da tanti impollinatori perché in quel periodo penso sia una una delle poche piante presenti devo dire no interessante comunque grandi studi non ce ne sono grandi studi non ce ne sono probabilmente in virtù del fatto che in quel periodo diciamo in certi ambienti una delle poche piante è sicuramente presa d'assalto ecco interessante comunque questa cosa non mi risulta ci siano tanti studi in ambiente urbano comunque offre sicuramente parecchie risorse bene hai qualche pubblicazione qualche libro da mostrarci al di là di quelle che ci manderai sì certo allora vi dico prima dei libri che abbiamo parlato di bioindicazione pensate che per i sirfi di è presente questa banca dati si chiama sirzenette per analizzare la qualità delle ambienti è stato fatto per i sirfi da grandissimo sirfidologo speit irlandese e collaboratori ed è un sistema standardizzato che valide per tantissimi habitat che utilizza i sirfi e questo era veramente l'ultima slide come indicatori ma questo principio è estendibile a tutti gli altri gruppi di insetti la filosofia è di confrontare specie attese con quelle osservate che è il punto della bioindicazione e permettere di calcolare la cosiddetta funzione di mantenimento della biodiversità che è un metodo per misurare la qualità di un ambiente in pratica noi quando analizziamo un ambiente campioniamo i sirfidi con quelle tecniche che vi ho mostrato e abbiamo le specie osservate e le rapportiamo alle specie attese le specie attese sono fornite da sirzenette habitat per habitat ok quindi quando questo rapporto raggiunge il 100% significa che tutte le specie attese sono osservate l'ambiente è al top man mano la percentuale cala l'ambiente vuol dire che ha subito qualche forma di degrado viene tollerata una certa percentuale di specie che non vengono campionate ovviamente come ero sperimentale questo in virtù dell'associazione stretta habitat specie e quindi questo è un metodo vi dicevo che permette a chi esegue uno studio con i sirfidi e sa interpretare questa banca dati che fra l'altro è gratuita questo sirzenette di avere un parametro di analisi ambientale si raccolgono specie si fa uno studio e io dico sempre e poi come usiamo questi numeri sono 18 sono 39 ecco questo è un metodo diciamo standardizzato che ci permette di avere una valutazione come vi dicevo le specie osservate si stimano con un monitoraggio io sono questa foto insieme al carissimo amico Daniele Sommaggio grandissimo sistematico che stiamo montando una malaise vicino a un vigneto e le specie che ci attendiamo sono fornite da Sizzanette ambiente per ambiente e ve lo volevo sottolineare perché i sirfidi hanno questo modo peculiare che nel nostro libro poi parliamo di analizzare l'ambiente e calcolare diciamo un parametro semplicissimo che però ci dà un'indicazione quantitativa della conservazione di questo ambiente perché se spariscono certi habitat spariscono anche quelle specie che vi ho mostrato prima che sono collegate a quegli habitat in questi sirfidi sono molto sensibili ecco libri non ve lo dico per una questione figurativi però non posso non segnalarvi questo libro che io e quei miei due amici e colleghi che vi ho mostrato abbiamo scritto che è stato pubblicato come quaderno dell'ISPRA i sirfidi biotinistica e conservazione manuale operativo e abbiamo scritto questo libro diciamo per compensare la mancanza di test di monografia sui sirfidi ecco qua siamo noi lo mostro anche a nome dei miei carissimi amici queste sono i nostri email eccetera e adesso il mio dipartimento ha già cambiato due nomi da quanto nel giro di 3-4 anni e vi chiedo scusa e come vedete offriamo una così un mediante un testo divulgativo un po' di indicazioni per studiare i sirfidi per la loro per la conservazione dei sirfidi e per la bioindicazione cerchiamo di dare qualche chiave interpretativa alla bioindicazione nei principali ambienti ad esempio agrari ambienti umidi ambienti forestali eccetera e fra l'altro abbiamo pensato di presentare una settantina di specie mi sembra 75 è un numero che è una settantina attraverso delle schede che vedete molto semplici in cui descriviamo le specie mettiamo una foto senza perdersi in chiavi tassonomiche complicate che fra l'altro ci sono già e quindi per diciamo un approccio e per comodità si può cercare di identificare qua vedete l'episir su sbalteato a sinistra e a destra guardate che bello l'eristalinus teniops guardate che begli occhi che ha quegli occhi zebrati che sono stupendi ecco se beccate quell'eristalino lì vedete è la radice quadrata dell'eristalinus teniops un po' più piccolo a quegli occhi di quel tipo lì voi avete già beccato la specie chiaramente abbiamo indicato specie che sono identificabili diciamo in maniera abbastanza semplice oppure abbiamo messo specie rare che hanno un significato conservazionistico quindi noi offriamo questo suggerimento di cercare di identificare i simbili guardando i simbili guardando le somiglianze morfologiche le caratteristiche poi ci sono tanti manuali europei che sono piuttosto belli prevalentemente in inglese ma uno vedete anche in danese ad esempio lo Stubsenfalke a sinistra il secondo volume del British Overfly il Van Van che è un test olandese quest'altro di Torp che è in danese l'ho messo per mostrarvi diciamo quanti testi ci sono ne ho tanti altri se volete ecco qua ci sono anche chiavi riferite alla fauna inglese e olandese e danese ovviamente ma ci sono specie in comune eccetera che possono essere consultati e quindi però ecco io vi dico anche che questo nostro libro che abbiamo fatto comprende anche una bibliografia con testi anche molto specialistici quindi da questo testo insomma ve lo consiglio per avere un panorama è disponibile sotto forma di pdf di volumi stampati ce ne sono rimasti pochi purtroppo però c'è il pdf ed è consultabile diciamo agevolmente spero di avervi risposto sì si è stato più che esaustivo e a questo punto siamo arrivati praticamente alla fine del nostro incontro due ore devo dire che sono proprio volate un argomento che ha affascinato affascinato tanti a cominciare dal sottoscritto io voglio dare a tutti i nostri ascoltatori una una notizia importante che speriamo tutti possa essere confermata a breve noi abbiamo coinvolto il professor Burgio e i suoi colleghi dell'università di Bologna nella presentazione di un progetto live a cui ha collaborato anche David Welfiori che è il direttore della riserva Ripa Bianca di Iesi dove si svolge questo progetto specifico Be Safe insieme al Ministero della Transizione Ecologica e questa cosa la segnalo perché una delle azioni previste da Life che si chiamerà Life Poly Network è proprio il coinvolgimento di gruppi di volontari di cittadini comuni in attività di Citizen Science è proprio per il monitoraggio di tre gruppi importanti di impollinatori uno sono diciamo le frafalle di urne le epidotte di urne l'altro sono un po' dei probabilmente ci focalizzeremo probabilmente sui bombi ma un altro gruppo è proprio quello dei sirfidi e le attività di Citizen Science legate ai sirfidi sono un po' una novità perché fino ad oggi è un gruppo che è stato seguito soprattutto dagli specialisti dagli entomologi quindi l'idea proprio di divulgare questo gruppo importante di impollinatori ma coinvolgere anche i comuni cittadini in un'attività diffusa di monitoraggio attraverso censimenti sarà messo a punto anche una metodologia che possa facilitare il monitoraggio di questi animali è uno degli obiettivi che ci siamo posti con questo live che aspettiamo la valutazione finale della commissione europea per per fine maggio giugno e speriamo che possa essere definitivamente approvato devo dire che nella fase preliminare abbiamo avuto una valutazione direi più che soddisfacente da parte della commissione se dovesse essere approvato è un progetto che durerà quattro anni e avremo tante occasioni di coinvolgimento di appassionati ma anche di cittadini comuni alla scoperta dei sirfidi e di altri impollinatori e allora se posso condividere io adesso il monitor andiamo in chiusura allora dovresti uscire dalla condivisione ah sì giusto scusami perfetto no era solo per annullo adesso l'ho tolta vero? sì sì adesso è tolta perfetto perfetto scusa se era rimasta no ci mancherebbe allora innanzitutto i ringraziamenti a Giovanni Burgio e al al contributo che ci ha dato che ripeto sono arrivati sono arrivati più complimenti e congratulazioni di domande però come hai visto le domande non sono state poche e quindi le congratulazioni sono state e i complimenti sono stati veramente tanti noi ti ringraziamo e ti dico subito che al di là della della sicura approvazione del live perché non possiamo che essere scaramantici sicuramente avremo avremo l'occasione di coinvolgerti di nuovo sulle attività del WWF a tutela degli impollinatori perché insomma questi questi sirfidi poco conosciuti ma molto affascinanti quindi abbiamo avuto veramente un successo al di sopra di qualsiasi previsione e il prossimo incontro di questa serie di webinar legati al corso di formazione per educatori e docenti del progetto Be Safe sarà martedì 16 marzo sempre dalle 17 alle 19 parleremo nello specifico della della minaccia pesticidi per per le api e altri impollinatori e avremo con noi Riccardo Quintilli che è il direttore della rivista Salvagente che è una rivista che dedica sempre molto spazio e molto attenzione al tema dell'impatto dei pesticidi sia sulla salute umana che che sull'ambiente e lui ha ha redatto ha scritto di recente un libro che al titolo dacci oggi il nostro veleno quotidiano noi partiremo da una riflessione con lui sul tema più ampio dell'uso dei pesticidi e sull'impatto che appunto hanno sia sulla nostra salute che sulla salute degli ecosistemi per approfondire il tema che è stato trattato anche oggi dell'impatto dei pesticidi sugli impollinatori quindi l'appuntamento per tutti è martedì 16 marzo alle 17 sempre sulla pagina diretta sulla pagina facebook dedicata al progetto BeSafe e vi ricordo infine la la petizione ICE ci sarà tempo fino a giugno per raccogliere le firme ma soprattutto chiediamo a tutti coloro che hanno seguito questo webinar si sono appassionati ai sirfi di attivarsi di essere parte attiva nella nella promozione della raccolta delle firme quindi non basta firmare bisogna anche attivarsi per per convincere tante persone ad aggiungere la la loro firma a questa importante petizione che come ricordavo oggi è importante perché serve per rafforzare gli obiettivi della strategia front to fork e della strategia della strategia biodiversità e quindi ah ricordo le persone che vogliono ricevere l'attestato devono rispondere alle domande che riceveranno nel gruppo whatsapp a cui si sono iscritti per avere conferma della di aver seguito questo webinar questo vale vale per tutti i webinar legati al corso di di formazione e chi vuole si può comunque sempre iscrivere anche per i prossimi per i prossimi webinar chiaramente verranno riconosciute solo le ore che sono state di corso che sono state che sono state seguite e continuate a seguirci sulla pagina anche sulla pagina facebook quotidianamente noi una volta alla settimana facciamo una sorta di rassegna stampa sul web di tutte le notizie che escono sul tema api e impollinatori e quindi diciamo al di là della possibilità di rivedere i webinar c'è anche la possibilità di trovare notizie e informazioni sia sullo sviluppo del progetto ma anche sugli impollinatori in generale e ultima notizia chi avesse interesse a rivedere i webinar che sono stati già realizzati sul tema impollinatori nell'ambito del progetto BeSafe basta andare sulla pagina del sito del WWF Italia BeSafe e trovate la registrazione di tutti i webinar che sono stati ad oggi realizzati e a breve troverete anche la registrazione del webinar di oggi del professor Burgio bene abbiamo terminato non posso che rinnovare un brevissimo saluto posso fare un velocissimo saluto a tutti gli ascoltatori e ringraziandoli per l'attenzione saluto e ringrazio anche voi iniziando da te da Franco Darina David saluto per avermi invitato mi ha fatto molto piacere quindi ripeto che sono molto contento di essere all'interno di un ciclo di seminari che condivido molto e penso siano molto importanti lo dico proprio con grande sincerità quindi per me è stato un grande piacere e saluto tutti di nuovo ringraziando grazie a te e grazie a tutti a tutte le persone che ci hanno seguito e che ci seguiranno anche nei prossimi appuntamenti quindi una buona serata a tutti a cominciare da professor Burgio che ci ha fatto conoscere qualcosa di più dei sirfidi credo che molti si sono innamorati dei sirfidi questa sera sono contentissimo sono veramente contento e spero che anzi l'augurio diventino sirfidologi e si accorgiano c'è un gran bisogno di entomologi diciamo che sono forse più a rischio di estinzione degli entomologi degli animali che studiano potremmo dedicare un webinar proprio all'estinzione all'estinzione degli entomologi gli entomologi bisogna aiutarli esatto benissimo grazie a tutti arrivederci